800 e del 3.801. Grazie. 3.801? 0.3. Quindi è un sub a quello delle commissioni. No, scusate. Ce n'è un altro allora, che però nel fascicolo... Scusate, nel fascicolo dov'è? 3.800. Vabbè, poi me lo dite voi dov'è, eh? Ok, grazie. 3.800, onorevole Fico, prego. Sì, perché almeno sta lì tranquillo, capito? Sì, se ci può leggere lei. Ah, sì, ok. 3.1, pannarale, identico, 3.1, nesci. Favorevole. Ah, mi scusi, ce n'era uno prima. 3.220, Brunetta. Ci rimettiamo all'aula. Grazie. 3.203, Fico. Favorevoli. 3.53, Fassina. Favorevoli. 0.3.801.1, Giancarlo Giordano. Favorevoli. 3.801, le commissioni. Favorevoli. 3.8, Vacca. Contrari. No, ma, scusi, favorevoli, favorevoli. Sì, in effetti anche io ho scritto subito così. 0.3.800.1, Fico. Favorevoli. 3.800 delle commissioni. 3.800. Pagina 30. Contrari. 3.12, Simone Valente. Favorevoli. 3.14, San Marco. Ci rimettiamo all'aula. E poi facciamo anche l'aggiuntivo. 3.03, Caparini. Contrari. Mi pare, un attimo. Non mi pare che ce ne siano altri. Perfetto. Grazie. Governo. Conforme al relatore di maggioranza. Grazie. Allora, passiamo all'esame degli emendamenti. 3.1, Pannarale, identico. 3.220, Brunetta. Parere contrario. Commissione e Governo. Si rimettano all'aula il relatore di minoranza. Aperta la votazione. Ci siamo? Bianchi, Stella Bianchi, Di Salvo, Marchi, Coppola, Matarrelli, Dincà.